Tu fai l'interview? Si! Allora, io voglio un bacio. Chi siamo e cosa facciamo qua? In italiano, in inglese. In italiano, va bene, o in inglese, if you like. Allora, bonsoir. Bonsoir. No, stop. Buongiorno. Hi. Buongiorno. 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 We are building this kind of bicycle. Why are those bicycle special, apart of small wheels? The question is true. Because this is really, really a special bike. You can see how easy it is to close and open this bike. You can push the brake. Press the rear, to push it towards yourself and you E poi puoi portare in un po' molto lungo. E poi puoi portare in qualsiasi voglia? Si puoi portare in qualsiasi voglia. Quindi una moglie può portare facilmente? Of course. Wow! Se volete andare a un po' più costante, puoi portare il bagno. E poi puoi portare il bagno. E poi puoi portare il bagno. Qu'è il nome di questa bianca? È un model Nexus One. Quanto riguarda? Il costa un costumizzo, perché è particolare con tutte queste cose. È 1.500 euro. È un bianco elettrico? È un bianco elettrico. È perché posso vedere. E dove è il motore? È interessante perché il motore è in fronte e rear. E la rear è piccola. Quindi quando si riuscite, ha molto di potere anche. Ah ok, ho capito. E con rispetto alla piccola di Lidl, noi assembliamo a 36 volt e 5.8 ampere batteria. Quindi è potente. È potente, non è molto caro. Non. Puoi farlo molto facilmente. Carri con te. Carri con te. Se hai qualche problema, ci sono 6 km per l'ora. Puoi riuscite qualche difficoltà. Quando si riuscite. E dove è basata la tua compagno? È in Vicenza. In Vicenza, che non è molto vicino da qui. Non, non è vicino. È la bicicletta golda. È la bicicletta golda, davvero è. E hai molti altri modelli. E questo non è un bicicletta. È un scooter. È un scooter. È un scooter. È un scooter. Hai provato? Ho provato? Ho provato? Ho provato? Ho provato? Ho provato? Ha provato? Ok. Sì, adesso ti mostra come funziona Quando c'è circolazione e la bicicletta va da sola Va da sola? Va da sola, è magica Il tappeto volante Il tappeto volante È come un Kinder Sì, sì, è come un Kinder Guarda, guarda 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 Sì, è genial E questo è quando c'è la circolazione Quando c'è la circolazione, tu vuoi detourner l'obstacle Tu puoi avere le pied par terre E in stesso tempo la bicicletta avance Non, tu n'as même pas a rulli Oh, che bello Allora, grazie mille Grazie mille Allora, grazie mille